benvenuti a tutti in questo nuovo video oggi farò una guida per chi come me è povero e vuole avere un iphone a parte gli scherzi andrò a fare una guida per impostare il launcher come ce l'ha ios per chi magari trova brutto scomodo quello di android ma innamorato di iphone ecco la soluzione allora scaricate questo apk che io ho già scaricato che trovate comunque il link in descrizione di x launcher pro che è la versione non light che trovato sul play store ma la pro ok andiamo a installarla questa applicazione porta anche all'interno degli sfondi appositi di iphone per invece per le suonerie bisogna cercare o in internet o su play store se c'è qualcosa disponibile ecco che ci sta mettendo un po installarci calarsi ok andiamo ad aprirlo ecco adesso facciamo start e vedete che già impostato e avremo la schermata uguale identica quella di iphone x vedete anche le icone sono sono riprodotte abbastanza fedelmente qui abbiamo il nostro menu ovviamente abbiamo la funzione cerca in alto abbiamo anche inclusa in questa applicazione il il controllo il centro di controllo vedete è questo qua qui possiamo andare a mettere modalità aereo alzare e abbassare luminosità e volume come ho fatto io adesso accendere la torcia la fotocamera e via dicendo proprio come sull'iphone qua è il menu delle impostazioni dell'applicazione dove possiamo personalizzare un po di cose come le dimensioni del testo delle icone il colore e via dicendo qui possiamo andare impostare i widget tenendo premuto le impostazioni vedete rimango quelle comunque del nostro telefono android adesso andiamo a installare la tastiera trovate anche il link in descrizione questo che state installando è semplicemente un tema di un'altra applicazione quindi quando noi andremo ad aprire questa applicazione ci chiederà di installare un'altra che praticamente è semplicemente una tastiera aggiuntiva che va a modificare o quella stock o quella di google che abbiamo sul nostro dispositivo ecco qui infatti vedete questo qua è il tema nero e poi nei suggeriti ci da altre applicazioni per far assomigliare il nostro telefono all'iphone ecco che si sta scaricando stiamo installando ecco qua andiamo ad aprirla vedete questa è la rappresentazione della nostra nuova tastiera ci chiede di scaricare questa applicazione qua che si chiama iphone carino emoji tastiera tradotto un po cavolo una volta aperta a questa applicazione troviamo il catalogo con tutte le varie tastiere ma noi avendo già installato questa qua selezioniamo questa semplicemente allora andiamo prima abilitarla ok andiamo a impostarla come attiva ok andiamo a dargli l'ok due volte e adesso andiamo a selezionare il nostro il nostro tema scusateci sono uscito un po di schermata eccolo qua vedete già selezionata questa è la nostra tastiera chiudiamo la pubblicità e questa è la nostra tastiera l'opera su instagram vedete questa tastiera include anche emoticon gif e via dicendo ma non sono quelle originale di iphone almeno non mi sembrano questo è tutto se vi è piaciuto questo video lasciate un like iscrivetevi per i prossimi aggiornamenti e un saluto grazie a tutti grazie a tutti